Palazzo delle Stelline, Milano, prima giornata dell'IT Forum Winter. Siamo con Stefano Gianti, responsabile dello sviluppo del business di Swissquot. Stefano, qual è il tuo punto di vista su questa edizione dell'IT Forum Winter e qual è il livello che stai osservando per quanto rigoncerne la preparazione dei trader italiani in aula? Giornata davvero molto interessante, tra l'altro anche il piacere e l'onore di aver fatto e fare anche nel pomeriggio operatività in tempo reale con diversi e famosi trader italiani. Abbiamo gestito diverse operazioni, io in particolare ho preso un long sul dollaro yen, un grafico 15 minuti e altre strategie che stiamo portando avanti. È sempre davvero interessante confrontarsi con chi fa questo mestiere di professione da ormai diverso tempo. Per quanto riguarda l'audience, fortunatamente è davvero numerosa e in sala noto anche molta preparazione, nel senso che sono molte le persone che stanno facendo trading intraday e noto proprio una crescita rispetto a anni fa. Ecco, proprio sul fronte della crescita diciamo che lo sviluppo delle conoscenze dei trader italiani è legato anche al forte impegno da parte di tutti i broker sul fronte della formazione. Swissquot in tal senso non è una realtà che è da meno, dedica molte delle proprie energie proprio a una costante evoluzione della parte educational. Quali sono le attività che state portando avanti in questo periodo? Sì, guarda, lo sforzo qua è davvero numeroso, è davvero alto, nel senso che i mercati, come sapete, evolvono. Noi addirittura ci mettiamo a fare un percorso formativo portando proprio delle strategie che effettivamente se replicate mercato possano creare profitto. Però poi ci aggiorniamo costantemente perché poi bisogna anche vedere come evolvono i mercati, come vanno ottimizzate le strategie e soprattutto migliorate. I nostri clienti sono sempre più attenti soprattutto anche alla gestione del rischio che il trader è tutto sommato troppe volte trascura. Quindi chi inizia a fare trading dopo un centinaio di eseguiti si accorge davvero che questo è un aspetto davvero fondamentale. A Swissquot mettiamo addirittura a disposizione per la MetaTrader 4 anche dei tool che aiutano proprio il trader a gestire il rischio e questo fa davvero la differenza. Grazie a tutti.